io veramente spero spero per te che se che no spero che se ne contro figura di un'altra denoso cioè secondo me ne ha manco una contro figura no che è il fratello gemello è un pippone da sempre quindi non è che che è un fratello gemello è proprio un pippone e basta c'è un fortiere che te fa due papere perché la prima va bene il paperone è incredibile a seconda pure secondo me è un'altra papera perché comunque e mani devi usci basso ma comunque devi provarci almeno ma la sfiorata proprio giusto così usiamo un attimo sto coso perché c'è c'è allora partita interpretata allora si partiamo dall'inizio ma non so che si aspettavano che il siviglia facesse due passaggi in cruce da dietro e impostasse a caso arrivando così è imbarazzante c'è una squadra che comunque non è niente di che secondo me c'è il siviglia ed oggi o comunque il siviglia in generale in italia in italia rimontavo perché oggi comunque quando ha iniziato ha preso una traversa ma non ha fatto niente la roma e il siviglia hanno giocato una partita da 0 a 0 tutte e due una partita di merda tutte e due solo che noi come handicappati come errori individuali ragazzi che dobbiamo dirgli errori individuali ragazzi inguardabili c'è da dagli errori ma poi primo tempo primo tempo cioè quei due errori secondo me ci hanno proprio ammazzato ma questo onvordini nel secondo tempo devi giocare così nel secondo tempo devi ripartire a 200 all'ora la partita più importante della stagione ma che ne so ma non c'ho proprio idea e quell'altro Bruno Perez sta lì davanti alla porta invece di tirare o comunque sto palla in modo decente sa la porta dell'altra parte cioè proprio cose cose senza senso ma quando oggi ragazzi un giocatore ma è Paolo Lopez pagato 30 milioni e passa Paolo Lopez c'è gente che ancora no adesso perché adesso dice vabbè la prima pavera posso posso pure dirlo ma a derby torino se ti metti a contare le partite ma perché ma pure raggiungi quelle di Olsen cioè le uscite sono che con 20 milioni in più le uscite i rigori i rigori mai preso cioè sbaglia pure le cose più facili cioè il tiro di oggi è il tiro di oggi cioè penso che veramente avrebbe preso qualsiasi altra persona al mondo cioè non puoi sbagliare quel cacchio di tiro cioè un tiro che dovevi segnare cioè che dovevi parare 100% una cagarella gli hanno tirato se comunque gli ottavi d'Europa League cioè è una partita più importante della stagione la partita più importante della stagione tu la butti così perché tu stronzate è una partita proprio interpretata una merda da primo De Fonseca che ovviamente al 70% è 31% è lui che mette i giocatori in campo è lui che fa gli schemi oggi non abbiamo visto né i giocatori in campo né i schemi perché oggi non gestava proprio niente veramente linea difensiva che devi di mancini vabbè se prende il rosso alla fine ma quello alla fine poco importa smolling smolling vabbè ma già che tu prima della partita comunque no prima della partita comunque fai tutti quei giochetti 17 milioni noti non tre parti capito smolling il giocatore più forte della roma per me oltre a Zeko che oggi vabbè inguardabile cioè Zeko come tutti no 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 ma Zeko non c'è segreto non ha fatto una cosa sembrava una partita del primo anno che non carburava oh Zeko non ha sfiorato una palla una palla i passaggi che lui comunque riescono sempre le sponde si è uscita una mi sembra basta cioè io veramente non c'ho parole di sta partita non c'ho poco parole gli esterni che che ci stanno aiutando con sto modulo spinazzo l'ha provato qualcosa ma c'è una partita così importante ma con il resto della squadra così o cioè veramente manca di dire Siviglia gioia no comunque con Siviglia che ti ammazza perché hanno corso perché gambe ne avevano più di noi sì ma non ha giocato cioè non ha fatto niente al primo tempo prima del gol ha preso una traversa ma stavano più o meno uguali cioè due partite delle merda 69% di possesso ma che sotto sotto stavano a fare tutti i passaggi stavano tutti a dribblare fa ma l'hai vista da lui alla fine della partita o al primo tempo che stai chiesto possesso palla no all'inizio vabbè comunque non è che stavano a fare tutta sta grande partita poi ovviamente dopo i gol magari sì sì meritata ma per me non è che era una partita abbordabile non è che un Siviglia che ti ha ucciso non è un Siviglia che ti ha ucciso che dici vabbè ti ha ammazzato non puoi non puoi fare altro dominio assoluto non hai sfiorato una palla non hai sfiorato una palla ma comunque anche loro anche loro cioè qui bastava un minimo sforzo quello che ci hanno messo loro ce lo doveva mettere a Roma che poi loro ci hanno messo come l'ha interpretato Fonseca andate giocate e poi vedete sta partita doveva finire 0 a 0 sarebbe finita 0 a 0 ma comunque non è un atteggiamento valido perché comunque se tu parti da un 2 a 0 nel secondo tempo nel secondo tempo tu non devi rientrare così ma mai nella vita mai nella vita cioè Cristante Cristo il Dio mi toglie diavara che comunque sta a giocare male ma mai quanto Cristante che non mi ha azzeccato un passaggio non ha fatto un intervento buono niente poi Bagnaz mi toglie Cristante e mi toglie Kolarov e comunque cioè era almeno peggio ma poi anche lì ti serve l'esperienza di Kolarov guarda quella di Bagnaz come è stata pagata una scivolata che là lo so io che non va fatta cioè a sto punto veramente ora parla dopo la partita è facile ma comunque c'è ragione in attimo i Bagnaz comunque 20 anni 0 presenza in Europa non è la Serie A che gioca un tra la spalla per una bella partita che gioca un tra Torino quello e quell'altro però in Serie A comunque ti stai a giocare bene ma non è la stessa cosa che giocare in Europa in Italia cioè i Bagnaz 20 anni cioè io gli avrei fatta comunque ti ha sbagliato poche partite no Fazio è un pippone ma sicuramente c'ha più esperienza in Europa ha giocato alla Champions ha giocato all'Europa League comunque c'ha più esperienza sicuramente dei Bagnaz e per me sta partita è più importante l'esperienza che un giocatore magari forte che poi fino a visto l'esperienza ha pagato veramente cioè non c'ho parole non c'è pure i cambi niente ma nemmeno prima nemmeno durante la partita mi ricorda veramente che questa tu hai dove gioca proprio in un altro modo in un altro modo poti pure perdela ma sta atteggiamento proprio osceno cioè perdere la questa rica veramente ridicoli ridicoli proprio cioè da Fonseca a tutti i giocatori cioè Zeko cavolo mo va bene che non gli si può di niente a Zeko per quello che ha fatto e per quello che fa sempre però comunque c'è mi chiede che ci ha provato un minimo di più ma tutti ma che ci ha provato tutti schifo hanno fatto alla fine anche tra i Messi la oggi pure Zaniolo pure Zaniolo male male ma Zeko non mi sarei mai aspettato perché è il capitano è un giocatore che comunque fa salire la squadra che aiuta la squadra invece oggi 0-0 sia come giocatore che come allenatore perché fa l'allenatore in campo Zeko però 0-0 va veramente non c'ho proprio parole non c'ho proprio parole domani ore 14 live reaction su YouTube ci vediamo domani con appunto la live reaction con le bestemmie e niente niente questa stagione è finita sempre Forza Roma speriamo bene la prossima stagione però comunque un ottavo non puoi scegliere gli ottavi finali d'Europa League una partita così importante la butti in questo modo bisogna comunque contare basta basta dai bella bella grazie a tutti grazie a tutti